In uno scenario da notte degli Oscar, con tanto di red carpet, fotografi e le principali tv e testate giornalistiche, sfileranno tutti coloro che hanno fatto la storia delle radio, delle televisioni e delle discoteche del nostro territorio, la metà dei quali ancora in attività. Fervono i preparativi per il gran gala DJ Celebration in programma per sabato 21 ottobre al ristorante La Ginestra alla Gola del Furlo, una serata fortemente voluta da Sergio Ferri di Radio Masai, che ha organizzato la serata insieme alla titolare del locale Marina Giacomell. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è un ringraziamento, perché la categoria dei disc jockey, DJ, annunciatori, speaker, chiamala come vuoi, è una categoria che è sempre stata protagonista, perché se non ci sono non c'è serata, o non c'è radio, o non c'è televisione. Ma nessuno o pochi hanno detto grazie a queste persone. È una categoria molto ambita magari da persone che vogliono in qualche modo emergere e fare questa professione, ma pochi, pochissimi sanno dire un grazie. E abbiamo pensato che è l'occasione buona per dire grazie del lavoro fatto da tante persone nella provincia di Pesorubino, dagli esordi della comunicazione, quindi della radio e delle discoteche, fino ad oggi le televisioni e anche le radio web, come si dice. Dunque verrà consegnato un riconoscimento a tanti personaggi, anche storici. Ci può fare qualche nome? Beh, sai, fare i nomi è sempre molto difficile, perché o li fai tutti o non ne fai nessuno. Posso darti degli indizi per riconoscerli. Ci sarà il primo DJ della storia di Fano. Ha iniziato la sua carriera in maniera veramente pionieristica nel 1970. Nella prima discoteca di Fano, il Pick Up, posso fare il nome perché ormai è storia e non è più esistente. Oppure ci sarà quella che a Fano tutti conoscono come la voce del Carnevale. E i nomi vengono... E conosciamo bene. Una menzione speciale prevista anche per le tv locali. Sì, perché, sai, abbiamo pensato, va bene la radio, o meglio, va bene la discoteca, va bene la radio, ma oggi si vive di televisione. Le televisioni hanno un ruolo fondamentale nella comunicazione. Non possono, i giornalisti televisivi magari non possono essere definiti disc-jockey, ma è un'evoluzione della professione. Quindi, in qualche modo, rientrano a far parte di questo meraviglioso mondo. Quindi abbiamo deciso di premiare, in qualche modo, quelli che poi saranno presenti e dare una menzione speciale alle televisioni locali, le cosiddette televisioni locali, che poi locali sono fino a un certo punto, perché anche Fano TV si vede in tutte le marche, quindi oltrepassa un po' i confini del locale. L'evento è privato? L'evento è pubblico, quindi abbiamo suddiviso la serata in tre momenti. Siamo alla Ginestra, che è un locale storicamente dedito alla buona gastronomia, quindi una buona cena. Poi ci sarà questo momento celebrativo e poi, orientativamente, intorno alle 11, si farà festa con la musica. E chiaramente tutti possono venire a riconoscere, stringere la mano, abbracciare, o semplicemente, ripeto, dire grazie a quelli che sono i protagonisti delle radio, discoteche e televisioni della provincia di Piesaro.